Benvenuta a questo ennesimo appuntamento che abbiamo con l'Europa. È un evento importante quello che stiamo vivendo. Abbiamo qui con noi le rappresentative di Olanda, Polonia, Turchia e Spagna che sono i partner del nostro progetto Erasmus. Li accogliamo con un grande applauso. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i studiatori, i studenti, i i bambini, per una buona benvenza. Grazie a tutti. sindo davvero molto meny��ительно wille e sper Freunde che vediamo i bambini i bisogniti italiani e di scelte in Pogέλn inmocio. Grazie a tutti. 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 Buongiorno per tutti. Buongiorno per tutti. Grazie a 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 tutti. No speech. Grazie a tutti. 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 E un applauso a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.